Salve a tutti! Rieccoci benvenuti a una nuova puntata di questa serie Viva la FIVA FUT e Disperazione E siamo sempre lì FUT è la modalità, la disperazione è quella della mia squadra che conoscete bene Ora, come sapete, iniziamo sempre la puntata con un paio di sbustamenti No? Lo sapete anche abbastanza bene Allora, io direi Io direi di sbustare queste due Anzi, vediamo L'oro premium normale, non ce l'ho Promo Oro premium, giocatori oro premium Allora, direi di fare così Allora, iniziamo questo Lo Ah, c'ho due oro premium Allora, iniziamo da questo giocatore oro premium E vediamo cosa viene fuori Vediamo un po' Un po' se faccio con lo squad battles E perlomeno è raro Argentino Che è super... Batalla Batalla E chi cacchio è? Batalla? Ok E poi... Oh, attenzione Nicola Kalinic Abbiamo trovato Kalinic E abbiamo trovato Giaccherini Attaccante sinistro Che non è male Non è male Batalla Questo è... Campionato turco Vabbè Continuiamo a trovare Il gioco fenomeno di campionato turco Comunque Nicola Kalinic Potrebbe essere un... Tanto campionato italiano Abbiamo trovato Kalinic C'è Giaccherini Gentiletti Antonelli Terzino sinistro Poi c'è Higuain Noi abbiamo Il fratello Il fratello che gioca Nei Columbus Crew Vabbè Roger Ricevuto Garcia Questo Liganos Vabbè E... Pure Campionato Addirittura Saudita Leonardo Leonardo Ma che faccia che c'è Poi Umar Vero Umar Quanto è bello Espiratand Sendiment Sempre campionato turco Tutti Campionato turco Allora Lizo Ain Che sempre E poi questi Argento Lizo Ain Che sembra più Un Boh Mi sembra più Un farmaco Per Boh Per la gastrite L'ice Beh Allora Cose carine Ma nulla di che C'è questo Calinice 81 Potrebbe essere un'idea Vedremo Con gentiletti Così Boh Vedremo E' da valutare Questa squadra Qua a questo punto Sono cose da valutare Ma eventualmente Per la squadra Per la squadra riserve Potrebbe essere da valutare Allora Allora Io direi a questo punto Di Ehm Provo a aprire Questo qua Pacchetti oro Premium Maxi Addirittura E vai Andiamo di oro Premium Maxi Secondo la bussa Vediamo cosa viene fuori Qua viene fuori Ehm Vorm Attenzione Portiere Olandese Di campionato Inglese Attenzione Attenzione Vorm Ehm Un po' più forte Risulta di quello lì Potrebbe essere da Vediamo Fargas Portiere Vabbè Abbiamo Strimic Tersino Sinistro Strimic Abbiamo Surman Centravista Centrale Ternacini Insomma Questo Gabriel Sempre Cambiato Spagnolo Poi è brasiliano Poi è bezzogna Kupler Palmer Brown E poi Tutte queste cose Qua Come campionato italiano Ah Attenzione C'è Ehm Ehm Tornata la copia Di Zoblin Quindi Zoblin Direi Lo mettiamo In Lista Trasferimenti E Questo Stemma Che Copia Io direi Che lo scartiamo 15 Copie 15 Crediti Poi Stemma E due Stemmi Campionati Vari Si Rintesa Insomma Continua Nulla Di che Comunque Ehm Vabbè Allora Questo Ciò lo lasciamo Per la prossima Puntata Ehm Ora andiamo online A stagione online E proviamo a giocarci Con la nostra squadra I disperati Proviamo a giocarci La prossima partita Allora Gioca partita Vediamo un po' La squadra La squadra Non è pronta Pensavo Che fosse da pronta Non è così Beh Signori Ci vediamo Formazione pronta Ok La squadra Sembra essere pronta Direi di andare Direi proprio Che si può andare Anzi Piccola sostituzione Che la devo fare Perché Perché C'ho Marti Sindy Infortunato Per quanto Sto fuori Quattro partite Che brutta notizia Che mi date Scusami A sto punto Vabbè Lo faccio dopo Lo faccio dopo Dai Proviamo A giocarci Proviamo a vedere Cosa viene fuori Io la vedo Sempre durissima La vedo sempre durissima Che c'ho una squadra Che Pala esemente Non all'altezza O almeno Con la capacità Adesso io Non sono io All'altezza Non la squadra Non lo so Insomma Sono in un campionato Che Fra Squadra E Me stesso Siamo un campionato Che mi compete poco Però vabbè Ok Non so se mi sente Credo di no Credo di no Però dai Io No Così Eccola Sembra Ravino Ah E però lagga Un pochetto Vai Santi Mamma mia Però che laggata Però In sempre Son Son Por Niente Niente Ancora Niente Vabbè Peccato 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 Cerchiamo di giocarcela Con calma Ehm Ehm Oia Questo se la gioca La squadra c'era buona Se la gioca pure bene Ehm No Grande Grande Casiglia Bravo Casiglia Ehm Fuori gioco C'ho i miei dubbi Onestamente Devo essere onesto Su questo Che fosse fuori gioco Però ok Meglio per me Vai Tanti Perché sei sulla fascia Iorente Perché sei sulla fascia Porca miseria Perché sei sulla fascia Piani Oh Qua Allora Vi un po' Bra No Grande Ehm No Iorente Comunque L'Ovren Bella Son Call di Son E Son Il coreano Oh il coreano Che miracolo Non so quanto me lo sia meritato Sto vantaggio Nestamente Però intanto Intanto l'ho messo dentro Il coreano Il coreano Il coreano Ehm Ora Ora vediamo Ora vediamo che ti riesce a fare Lui è Lui mi sembra uno Mi sembra uno Ottimo intervento Bravo Il sobba Madonna Però Pedro Che cazzo ti lancio Che cazzo ti lancio Pedro Oh Bravo Son Ma Iorente E a chi cazzo la do Movimento Senza palla Questo sconosciuto Fai Peters Il cross Iorente Oddio ne prendesse una di testa Buona la trama Cassiglia Eh che casiglia Casorla Niente Santi Vai Ancora Santi Iorente Perché sei sulla fascia Iorente Tu devi essere lì Al centro A prendere la palla di testa Perché Sei sulla fascia Non ne vedo il motivo Direi Ok Scusate No Che brutta Go Ah Oh no 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 Brutta 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 Cosa Meno male Bravo Lovren Sebaios Petro Ma Petro Petro Peccato Peccato Ok Poi Vittor Trebaios Bravo Sigurds Peters Cross E a chi cacchio la Detti Petro Vabbè Ciao Tu pensi che Petro la prenda di testa Che è alto un metro E una cacciotta Oh Aia Grande Bigas Poi catorla Sigurdsson Ancora Poi cazanti Bravo Bene No Oh Però Llorente Llorente Tiro Niente Il motivo Ecco Ecco che vuol dire Sì vabbè Bello Se lo sto calcio d'angolo Mamma mia Oh Però qua è brutta Qua è brutta la cosa Qua la cosa è bruttissima Ma porca miseria Quanto corre Douglas Costa Gol Casiglia Che miracolo Casiglia Che miracolo Che mi ha fatto Che miracolo Che mi ha fatto Casiglia Porca miseria Eh Due anni fa Sono Ogni tanto Ogni tanto Se la pensano Qua è giocato Ogni tanto Più che fa un passaggio Se la pensano Invece di farlo subito Attenzione Oh Eh Angolo Mamma mia Qua la stiamo soffrendo Tantissimo No 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 Vai Casiglia No 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 Casiglia No Non è questo Che mi serve No 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 Dai Ora sto soffrendo Tantissimo Sto soffrendo Tanto Eh Ciao E Casiglia Un altro Che Casiglia Mi sta facendo Una partitona Però Non può reggere Lui tutto Eh Porca Eh Grande Bigas Grande Bigas Ah Oh no 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 Non so se è la squadra Oddio Llorente Non so se è la squadra Se è lui Ma Adesso Tono Seriamente Mi sta mettendo Seriamente In difficoltà Bravo Loverno Ok Ma non a lui Non a lui Pjanic Casiglia Vai Peters A chi cazzo la dai Peters Son Dovevi esserci tu la A raccoglierla Bene Casiglia Pedro Fiorente Vai Pedro Vai Pedro Cross Sì A chi Stava per arrivare Un autogol E sarebbe stato Onestamente Troppo beffardo Per lui Sì Vabbè 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 Ne ha fatte Di più Cavoroso Onestamente Poi Eh Io non so Che cacchio Devo fare Qua Bigas Ciao Ma E chi Vai Sono C'è la mischia Mischione tremendo E alla fine Era presa lui Fine Prima del tempo 1-0 Soffertissimo Soffertissimo Lo sto soffrendo In una maniera Maledetta Dei statistiche Sono anche un po' Bugiarde Perché lui ha fatto Solo Risulta lui Che abbia fatto Solo un tiro in più Ma in realtà È molto più sofferta Ha avuto Tantissime occasioni Casì Ha fatto delle parate Pazzesche Devo C'è Quel che è giusto È giusto Io non so Pareggio L'avrebbe anche Meritato lui Finora Eh Sesto Vabbè Valla Ah Dai P No Eh no Eh no Eh no Meno male Casì Sì Sì Vabbè Mangiatela un po' di carne Sigurdsson Sei islandese Ce n'hai tante Carne là Eh beh Ciao Io qua c'ho un problema No Mamma Mamma Ah Bravo In qualche modo ci salviamo Sono Qualche maniera Che ci sta Tre anni e mezzo Prima di fare un passaggio Porca miseria Che Paracarro Che Llorente Pensavo che Pensavo che Ne avrei Giovato Ma Niente Non ne sto Giovando Neanche per niente No 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 Ma Ciao Ciao Casiglia Casiglia Cioè io devo chiedere Casiglia mi sta facendo Una partita pazzesca Ma non posso contare Solo su Casiglia Dai Son Eh Culeba lì col cazzo Che lo supero con Son Ah 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 Buontimo Vai Ma no Mi sbagliano tutti i passaggi Mamma mia Io non Vai Bravo Victor Vai Victor Vai via Victor Va Son Ah Vabbè Che cosa succede Io non so cos'è successo Ragazzi Io non so Cosa Sia Successo Non so cosa sia successo Vabbè Vabbè Me lo para È parato pure il rigore Io mi Cioè io Mi merito Non mi merito Di vincerla Davvero Pure mi faccio parare il rigore Non me la Ah No Vren No 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 Grande Bigas Mamma Che soffere Tiro Cacchiglia La prende Ma Chi te l'ha chiesto I fasso rinvio Che tanto Llorente Non ne prende una di testa Eh Eh lo sapevo io Non è che non lo sapevo Vai tua No No Eh ciao Eh lo sapevo E dai E dai E dai E dai Oh Prima o poi Sarebbe successo E dai E dai E dai La prima E non così Porca miseria Io questa la perdo La perdo male Lo so Oh no Mamma come l'ho sbagliato Su intervento No E vabbè Ciao Tutti addormenti Poi Meno male Che Insigni La ciabattura Stata malissimo Mi ha dato anche fuori gioco Va bene però Mamma mia Io Eh Partita Credo Credo Sto giocando Credo che sto giocando Nessamente la partita Più Io C'è C'è Il Lui il vantaggio Non lo sta Demeritando Affatto Anzi No Che cos'è Vai Victor Cross Iore Ma porca miseria Prendi Una di No Insegna Vai Via 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 Sta palla Porca miseria Come sto soffrendo Che Sofferta Bravo No Che devo fare Qualsiasi Qualsiasi Sì Ciao Però la presa Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Llorente Perché sei sulla fascia Llorente Per quale cacchio Di motivo Sei sulla fascia Llorente Dei tari Dove c'era il pallone Dove esserci tu Eh beh Chissà Eppure Santi Tantanovesimo Io Lo so Che arriva La beffa No Brutta Che cosa sta succedendo Mamma Vai di là E manda via Sta palla Manda via Sta palla Cioè io Verrò Una sofferenza Atroce Atroce È finita Un punto Un punto E onestamente Non so E onestamente Non so quanto Me lo sia meritato Cioè Non so quanto Onestamente Me lo sia meritato A questo punto Dobbiamo essere Sinceri Onesti Con noi stessi Ha meritato Tanto lui L'ho giocato malissimo Ma tant'è Ripeto Ho perso partite Ho perso partite Che meritavo Di vincere E Qua un punto Che magari A vittoria La meritava Di più lui Può capitare Fa parte Del calcio Fa parte Insomma Di tutto E Vabbè Vabbè E Ovunque Un punto Ci manca solo un punto Per la salvezza E va bene Bene E così Allora Direi Ti passa Alla squad Battles Ma no Non questo Ehm Potrei provare Questa Questo qua A livello esperto Sì Potrei provarlo Signori Beh Direi Che Direi Che ci vediamo A squadra pronta Betancur Erasmus Viene da Rotterdam Per caso Comunque Zanetti Ottimo Piccini Vai Ma no Berto Ah E Allora Non è malaccio La vedo Un po' fragilina Nei singoli Però come squadra Forse Poli Poli Intervento Pazzesco Di Poli Scivolata Ci ha lasciato Le gambe Molto probabilmente Zanetti Cosa Che cosa è C'è capito Comunque Jesus Gentiletti Ok Poli L'Axalt Ah Un attimo Capire Un po' Tutta Strinic Ah Bella Strinic Va Fin in fondo Strinic Cross Vabbè In mezzo E mezzo E niente No Non Mi sa che ci saranno Altri meccanismi In tutto questo Ottimo Bertolacci Se la passassi Quando la Premmo io La X Non mi dispiacere Rory Fallo su Rory E no Sembrava Quello Di una mamma Per amica Si chiama Rory Quello Di una Mamma Per amica Piccini Trova spazio Vai Bene Uno Inserisce Vai destro Destro Dalla destra Va bene Eh si In effetti Si No Vabbè Si perché avevi dubbio Ma che cosa Perché Sono Replay Ma per quale motivo Doveva servire La colla In technology Sulla punizione Oh mamma Perché Ecco Le cose di FIFA Meravigliose Laxabatte Laxalt Attenzione Kalinic Inter Parata Di Dani Hernández Lancia in avanti Terza bravo Vai Rangesus Ma me Anche Oh Oh Non 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 va bene Erasmus Rimandalo Rotterdam Ok Ok Kali Per Io Non Bo Incendio Kalinic C'ha La sindrome Nihorente Questo C'ha C'entra avanti E se ne va A prendere palla Sulle fasce Senza motivo Cross Niente C'ha la sindrome Di Llorente Bertolacci Oh Porca miseria Uno Uno Ne voglio uno Che faccia un movimento Uno Porca trota Attenzione Sempre Su Erasmus Rory Sempre Da una mamma Per amica Arriva Rory Umar Umar Invece Dalla nota Canzone Napoletana Vero Umar Quanto è Bell Spira Tanto Sentimento Bertolacci Bella Destro Mattia Bella Che mi Ti è piacuto L'Axalt L'Axalt Ed è 2-0 L'Axalt 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 Eh Eh ma non è Gol Non è autogol E cose Veramente Comunque Bentancur Ora Siamo 2-0 Un po' più tranquilla La situazione Ma non del tutto Soprattutto Se Erasmus Erasmus Da Rotterdam Attenzione Vai Vai L'Axalt Va via L'Axalt Va via L'Axalt Attenzione Mattia Destro Ed è il 3-0 Contropiede Fulminante L'Axalt Come si è Come si è inserito L'Axalt Che azione ha fatto Porta Pappete E Mattia Destro Porta libera Il buon Mattia Fa 3-0 Dai Si regala Grande calcio Addirittura Attenzione Ma Comunque Ancora meglio Ancora Poi L'Ax Bene Vai Calici Bella per Mattia Mattia per la doppietta Mattia Per la doppietta De 4-0 E beh E beh E beh Direi che la partita Viaggia su un binario Abbastanza tranquillo E la doppietta Di Mattia Destro Con la squadra D'avversaria Che si è Completamente Aperta Ma proprio Completamente Ora Possiamo parlare Con calma Diciamo La lana Siamo sempre qua Io sto facendo Lo scaltro Con questa squadra Qua Contro questi qua Che sono disperati Quanto noi Forse anche Qualcosa di più E ovviamente Che in questa squadra Due Soluzioni adattate Sono Il terzino destro C'è Piccini E l'attaccante destro C'è Mattia destro Anche se Insomma Un destro Che gioca Sulla destra In effetti Fa Fa Un Mattia destro Che gioca sulla destra Fa oggettivamente Ridere la cosa Cioè Con Forse faceva Ridere ancora in più Se Mattia destro Giocava sulla sinistra Però sulla sinistra C'ho l'Axalt E quindi Ancora Poli E Canice Mattia destro Prova ad andarsene Niente E giustamente Un centravanti Non è un Un esterno Attenzione Attenzione Ok Dunque 3 4 a 0 Scusate Mattia Bastanza tranquilla 4 a 0 Bene Una squadra che Tutto sommato Funziona Anche se ha Meccanismi E punti di forza Diversi Cioè E' una squadra Molto più Sull'agilità Neanche velocità Agilità E' una squadra agile E' una squadra agile Onestamente Questo si Però poco strutturata Fisicamente E' indubbiamente Più squadra Perché comunque C'è l'intesa 100 E' Quello Era invece 84 Attento Mattia destro Ma qualcuno Niente Angolo Bene Bene Angolo Laxalt Batte lui Io Non so Cosa ne può venire fuori Cross Linte Poi Gentiretti Eumar Elzar Elzar Elzun Ottimo Poli Bene Sternic Tolacci Gasson Dai che l'ha visto Ok Attenzione a Piccini Piccini Per i grandi E per i piccini Cross Mattia destro Kalinic Prova di un tiro lui Poi ancora La tonnara La tonnara Petancur Gaston Ranil Attenzione Palafolipo Comunque Tutto sommato Da Ha un senso E' più squadra E' più squadra Cioè Vedo che come Come squadra Ha qualcosa in meno Come i singoli Ma come movimenti In squadra Mi sembra un po' più Coordinata Anche se C'è sempre Vabbè ciao C'è sempre comunque Dicevo il solito discorso Dei Movimenti Senza palla Che insomma Che latitano Ecco Diciamo che Latitano Ok Poi Kalinic Fallaccio Secondo me Ma va bene Lo stesso Ok Tranquì Tanto Tanto gambe Ne ha due Quindi una Gliela puoi scippare Non è un problema Pensione Si infelice Poi piccinini Piccinini Cross Gaston Che cosa Che parata Ma cosa ha preso Cosa L'ha Come Non sono riuscito A capire Come l'abbia preso Però ok Allora Sempre l'Axalt A battere Porca miseria L'Axalt Però Kalinic Portiere Che Riesce a fare Una minchiata Riesce a fare Contemporaneamente Una minchiata E' un miracolo Vai cross Pese Punizione Si Punizione Batte sempre L'Axalt Cioè se lui Quello che batte Le punizioni Fiamo a posto L'Axalt Gaston Ramirez E' paratone Vai Poli Ma Niente Poli Ha cercato La fine S Vai Poli L'adiatorio Poli Poli Polaretti Poli Comunque Mills In Sicilia Mills In Sicilia Eh Beh Sarebbe facile La battuta Su Mills In Sicilia Qua dalle mie parti A Palermo Ma vabbè Kalinic Oddio Fosse in grado Ma perché Non riesco a avere Un centro avanti Come si deve Nè 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 fra i titolari Nè fra le riserve Niente Io purtroppo Ho sto problema Il centro avanti Sono condannato Ad avere dei paracarri inutili Come centro avanti È la mia condanna Tanto Per i mannocross Gentiretti Poi spiegamela Poi spiegamela Calinic 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 Dai Mattia Dai Mattia Ma porca Cercavo di far segnare Calinic Ma mi sa che era meglio Che andavo con Mattia destro Comunque 4 a 0 Io sto abbastanza Tranquillo Ma C'è C'è Io Mi sono convinto A fare questa squadra Proprio perché ho pescato Proprio perché ho pescato Calinic E alla fine Mi risulta che il punto debole Dell'attacco Risulta essere proprio Calinic È clavorosa la cosa È clavorosa Gaston Laxalt Vai Ma porca Sergio Marcos Mi mancava Sergio Marcos Sua Bene Andiamo avanti No Omar Eusol Zarr Ma porca Miteri El Zarr E Danetti Bravo Beriscia Però Ok Ok E finisce la partita 4 a 0 Partita abbastanza tranquilla Qualche occasione loro Ma la fine Bene così Bene così Direi che è andata abbastanza bene Un pareggio Seppur onestamente Immeritato Nelle partite online È una vittoria Abbastanza tranquilla Invece Allo squad battles Vittoria che ci frutta anche Un bel po' di punti Per la squad battles Sempre Interessante Siamo arrivati Argento 3 Io ovviamente Continuo a giocarci anche Per i fatti miei Diciamo Off screen Per la squad Ma solo di squad battles Che online la faccio Con voi E faccio solo di squad battles Così insomma Per salire un po' di velo Disculpa Battaglia vincente Aspettate un attimo Ora io vedrò un attimo Questo obiettivo Donnelli a questo premio Poi ci saluteremo Il premio Sono 350 crediti Cosa Che schifo Non fanno Sempre meglio Di un pugno in faccia Detto questo Direi che Possiamo salutarci qua Possiamo salutarci qua E darci appuntamento Alla prossima Alla prossima Ciao a tutti ragazzi